cari utenti di youtube voglio fare questo video per l'improvvisa scomparsa della regina Elisabetta II che è morta diciamo a 97 anni ed è indubbiamente una figura un'icona della contemporaneità perché lei ha attraversato proprio la storia non solo del suo paese ma di tutta europa perché ha attraversato la seconda guerra mondiale è diventata regina quando primo primo ministro era ancora sir wiston churchill e ha attraversato tutte le trasformazioni storiche della nostra contemporaneità è una figura a cui chi è come me della mia generazione ma anche quella dei boomer c'è comunque legato insomma anche penso coloro che sono politicamente in visi alla monarchia come istituzione lei ha dimostrato come il simbolo del re e della regina c'è la figura del monarca fosse una figura diciamo una figura quasi archetipa un'icona della nazione un qualcosa che unisce i suoi sudditi di ogni schieramento devo dire che anche sui suoi sudditi che non erano inglesi c'erano legati come gli scozzesi infatti come aver visto che anche un nazionalista scozzesi come sean conneri non ha rifiutato di essere nominato baronetto ovviamente da lei e quindi una figura straordinaria perché rappresenta l'unica l'ultimo dei grandi monarchi d'europa ma si può considerare una grande regina inglese come l'è stata elisabetta prima e la regina vittoria e niente io che sono poi di simpatie monarchiche più che repubblicane considerando dal fatto che la monarchia agli inglesi costa 40 milioni d'anno mentre invece noi italiani la repubblica il quirinale che il palazzo il quirinale ci costa qualcosa come 243 milioni d'anno le fonti sono del sole 24 ore quindi questa ragione è molto più simpatica la monarchia beh detto questo signori quando si quando amore al re si dice il re morto vive il re beh in questo caso senza voler fare polemiche di genere spero solo che chi la sostituirà si rivelerà della sua stessa altezza beh con questo cari beh con questa tristezza nel cuore vi saluto cari utenti di youtube